38 morti bianche nei primi sette mesi dell'anno, con questi numeri la nostra regione tra le peggiori di Italia. Nella giornata nazionale dedicata alle vittime sul lavoro, due storie emblematiche da Custonaci e Assoro, accomunate dal sommerso, quella di Giovanni Biondo, morto a 21 anni nel 2020, schiacciato da un ramo di pino, dava una mano alla famiglia facendo lavori in campagna. Non le chiamate morti bianche, dice la madre, perché di bianco non hanno nulla. E poi la storia del muratore Giuseppe Mazzola, rimasto invalido dopo un volo di sette metri da un solaio, è stata la moglie a denunciare la ditta per la quale il marito lavorava in nero e che lo aveva accompagnato in ospedale parlando, mentendo, di un incidente stradale. Una storia purtroppo comune a tanti lavoratori. È una guerra per la CGL di Enna e come tale va combattuta, ma mancano le infrastrutture e chi dovrebbe fare i controlli.